Buon pomeriggio, buon venerdì 24 aprile, eccoci al nostro secondo appuntamento di oggi con le notizie dal web. Cominciamo come al solito con la viabilità per andare a vedere qual è la situazione per questo weekend. All'indirizzo che vedete ora in sovraimpressione troverete riepilogo completo di tutte le notizie. Questa settimana particolarmente importante perché domani sono previste molte manifestazioni per la celebrazione del 25 aprile, molte le circoscrizioni che organizzano fiaccolate e processioni trovate tutte quanto il dettaglio sulla pagina che avete appena visto. Ripercorriamo i punti salienti, per questa sera vi segnaliamo che alle 20.30 è appunto indetta una fiaccolata da Piazza Arbarello che raggiungerà poi Piazza Castello dove, tempo permettendo, speriamo si potrà tenere un concerto conclusivo della manifestazione. La fiaccolata parte alle 20.30 come detto da Piazza Arbarello alla presenza delle autorità cittadine e poi secondo il consueto percorso di via Cernaia e via Pietromicca arriverà in Piazza Castello. Vi segnaliamo anche che da oggi e fino a domenica nel controviale di Corso San Maurizio tra il Rondorivella e il Viale dei Partigiani abbiamo il mercato europeo. Per quanto riguarda la giornata di domenica vi segnaliamo dalle 9 alle 13 in Piazza della Repubblica a cura del progetto The Gate le elezioni di lingua, alle 15 l'evento principale per la viabilità cittadina e la partita Torino-Siena valida per il campionato di Serie A allo Stadio Olimpico. Per quanto riguarda il tempo andiamo a vedere la situazione, una situazione decisamente negativa, piove anche se in modo debole come vedete dalla rilevazione dell'ARPA sulla nostra homepage, la temperatura intorno ai 12 gradi scarsi, le piogge sono previste anche per le prossime ore, sono delle perturbazioni che stanno arrivando dalla Svizzera e dalla Germania sulla nostra area, sull'Italia centro-occidentale e nord-occidentale, le temperature sono previste in diminuzione, arriveremo anche ai 18 gradi, pioverà sostanzialmente per le giornate di domani e di domenica. Andiamo a vedere allora le notizie dal web della città, con l'aiuto di Mario Parena andiamo sulla nostra homepage, la notizia di oggi è quella relativa a Estate Ragazzi 2009 perché sono stati pubblicati i materiali relativi a Estate Ragazzi per quest'anno, li trovate, le iscrizioni cominciano a partire dal 4 fino al 15 di maggio, trovate tutto a partire dalla nostra notizia in homepage. Andiamo a sentire però anche dalla redazione di Torino Click che in questi giorni sta seguendo l'evento di Biennale Democrazia, qual è il contenuto del numero in uscita questa sera, come al solito ci colleghiamo con Mauro Marras. Mauro a te. Abbiamo molti pezzi sulla Biennale Democrazia perché alcuni di noi sono andati a seguire degli interventi e ne riportano i contenuti, abbiamo per esempio un pezzo sull'intervento di Lenturen, un altro sul discorso Tribunale e politica, i nuovi poveri, insomma abbiamo un giornale di circa 10 pagine che è dedicato per il 70% alla Biennale Democrazia. Poi abbiamo un'operazione antiprostituzione dei vigili che è stata fatta nei giorni scorsi e che oggi è stata presentata ai giornalisti e naturalmente parliamo del 25 aprile delle commemorazioni in programma, questo è il succo del giornale. Grazie Mauro, allora come detto anche prima trovate tutte le celebrazioni del 25 aprile anche su Torino Click. Prima di passare la parola a Matteo De Simone per gli appuntamenti culturali andiamo a vedere le nostre webcam per vedere qual è la situazione in città a livello di traffico e di pioggia, questa è l'inquadratura di Piazza Palazzo di Città, vedete le persone che passano con gli ombrelli perché in questo momento in centro piove, questa è la vista dalla collina del centro cittadino, la visibilità ovviamente è un po' ridotta, qui siamo invece nella zona a sud in Piazza Pitagora, asfalto viscido ma non ci sono problemi per quanto riguarda il traffico e nella zona nord della rotonda autostrade in uscita dalla città vedete un po' di traffico anche su Corso Romania, abbiamo qualche rallentamento. Bene, allora io in questo momento lascio la postazione a Matteo De Simone che vi parlerà degli appuntamenti culturali previsti per questa sera, l'appuntamento con tutti voi è a lunedì mattina. Bene, buon pomeriggio, vediamo allora qualche appuntamento per la serata di oggi. Per quanto riguarda la musica classica vi segnaliamo il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Juan Nio Mena all'Auditorium della RAI Arturo Toscanini in Piazza Rossaro con musica di Darius Milod, Joachim Rodrigo e Ludwig van Beethoven. Cinema, vi segnaliamo il Festival Internazionale di Film a tematiche omosessuali che si protegerà fino al 30 aprile, le proiezioni sono in corso già dalle 16 e andranno avanti fino a tarda serata. Per quanto riguarda il teatro invece al Palo Olimpico Isozaki va in scena Notre Dame di Paris, il celebre musical tratto dal romanzo di Victor Hugo con le musiche di Riccardo Cocciante. L'appuntamento per questa sera alle 21.00. Sarà online tra poco l'ultimo numero di Torino Web News con tutti gli appuntamenti della settimana. Per l'occasione del 25 aprile siamo andati a scoprire un segreto nascosto all'interno di Palazzo Civico. Per quest'oggi è tutto, l'appuntamento con le notizie dal web della città è per lunedì alle 19.15. Ringrazio Mario Parina che ci ha aiutato nella messa in onda dell'appuntato e vi auguro una buona settimana. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.